ciao e ben ritrovati sono alberto di 54 dean street e oggi insieme costruiremo un paio di spider fatti in stile classico lo stile del nord country dell'inghilterra sono spider molto semplici non fossilizziamoci sul nome sul su nomi storici ma andiamo a giocare con alcuni materiali quindi divertitevi anche voi variando il materiale variando il colore o la piuma utilizzata andiamo a vedere i passaggi costruttivi un'altra parte di più la piuma utilizzata e la piuma utilizzata e la piuma utilizzata e il corso di più di più di più di più di più Grazie a tutti. 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 e a tutti.